Vittorio Bosio Vittorio Bosio Vittorio Bosio perché quel documento alla fine che fra le altre cose era pronto un anno prima poi abbiamo fatto una proroga per consentire agli altri di prepararsi bene, ha fatto sì che gli enti di promozione sportiva, credo due enti, mi sembra la Wisp e il CSI, abbiano perso una barca di soldi. proprio grazie a quel tipo di rendicontazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che altri enti si sono organizzati meglio di noi? O hanno incominciato a organizzare attività formativa e sportiva alla grande più di noi? Credo di no. Sì, noi siamo usciti dall'osservatorio perché non ci sentivamo a casa, ma ho detto ripetutamente anche nel contesto degli enti di promozione sportiva il coordinamento degli enti di promozione sportiva che noi non ci sentiamo a casa, non siamo tutti uguali. E quando siamo usciti, ed è stata fatta quella riunione al CONI abbiamo fatto un documento che per la verità già per 15 giorni sono andato avanti a vedere, al mattino telefonavo al vostro Presidente per capire se era ancora libero, perché dopo quel documento ci hanno minacciato querele, hanno detto poi non sono ancora arrivati, non lo so, stiamo aspettando. Ecco, con quel documento abbiamo denunciato una situazione che di fatto rimane e che fa sì che altri enti, pur magari essendo molto meno presenti di noi sul territorio, rendicontano molto di più di quello che è. La rendicontazione credo sia stato un fallimento così com'è. La piattaforma così com'è è un fallimento. Questo è il mio parere. Guardate, io ho sentito anche altre note ottimistiche e anche dalla coordinatrice del terzo settore, però confesso di essere cattolico. Ma nell'essere cattolico mi ispiro molto a Sant'Omaso. Allora, quando vedo e quando tocco con mano poi ci credo, perché di storielle ne ho sentito tante, di promesse ne ho sentito tante, ma si sono avverate veramente cose concrete, ne abbiamo viste veramente poche. E siamo andati avanti in questi anni in un mare di difficoltà. Abbiamo fatto quel documento anche abbastanza forte assieme con l'US Acli e con la PGS. Qualcuno mi ha chiesto, vi state accordando, siete diventati amici? Sì, sì, lo abbiamo fatto con gli enti che riteniamo che, diciamocelo francamente, sul territorio qualche volta siamo anche concorrenti, no? Lo facciamo così. Qualche volta credo che non sappiamo neanche governare bene alcune cose, ma l'abbiamo fatto con chi crediamo che eticamente sia corretto. Soprattutto non l'abbia mai fatto e dichiarato niente di falso. Come abbiamo fatto noi, ma poi qualche volta ci siamo sentiti stupidi. E allora credo che stiano cambiando i tempi. Io non lo so se quello che succederà ci porterà a quello che tutti ci auspichiamo, che le piattaforme, che il terzo settore, che anche come ente di promozione sportiva. Chi ci governerà il CONI, sport e salute? Di chi siamo figli oggi? Non lo sappiamo più, almeno qualcuno ce lo deve spiegare, perché io non ho ancora capito di chi siamo figli. E nell'essere figli di nessuno il rischio è molto alto. Il rischio è che siamo caduti dalla padella alla braccia. Oppure che non c'è ancora uno strumento che ci mette nelle condizioni di poter lavorare, di poter dire al territorio quello che deve fare, e di poter soprattutto lavorare con tranquillità. Perché io ogni tanto penso ai miei presidenti provinciali, poi magari i vostri non sarà così, ma penso ai miei rischi che corrono. Perché normative certe non ci sono. E se non ci sono normative certe si rischia veramente di finire anche nei guai e di mettere nei guai persone che ci mettono già tanto del loro, mettono già tanto del loro tempo, di impegno, che mi omettono già tanto per far sì che ci sia in Italia uno strumento che è quello dello sport sociale al servizio di tutti. Se guardo quello che sta succedendo nel mondo federale, ci sono federazioni che si stanno attrezzando per il sociale. E mi sono chiesto se improvvisamente le federazioni hanno cambiato compito, se gli sono stati tanti compiti o diversi. Se a noi verrà dato il compito di fare preparazione olimpica, che ne so. Se a loro fanno lo sport sociale, noi credo che si verrà detto che prepareremo lo sport degli olimpionici. E credo che lì andremo. Ma siccome non c'è ancora stato detto niente di tutto ciò, di certo non c'è niente, aspettiamo che ci siano delle normative certe per farci lavorare in pace e per darci strumenti certi per poter stare tranquilli, soprattutto per far stare tranquillo il territorio. Guardate, andando a leggere un po' di cose, di cose mi sono trovato una frase che ha detto Enrico Berlinguer, che credo siano 35 anni in questi... che abbiamo ricordato la morte, che dice ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno. Ecco, credo che per alcuni enti di promozione sportiva sia giunto il tempo di provare ad agire insieme nelle diversità, nel tutto quello che volete voi, ma credo che se non proviamo a fare qualcosa insieme fra non molto tempo ci troveremo sempre meno forti e troveremo sempre più difficoltà ad andare avanti come abbiamo trovato negli ultimissimi anni. credo che questo sia il compito che mi auguro, che siamo capaci nel dialogo di portare avanti un'attività che aiuti i nostri comitati provinciali, aiuti le nostre società sportive a poter lavorare in tranquillità e in pace. Auguro all'Assemblea, state cambiando lo statuto, noi ci siamo passati dilaniandoci in mille... perché poi siamo maestri tutti nel dilaniarci in storie interne quando poi dopo facciamo favori agli altri. Vi auguro di trovare la coesione giusta per far sì che vi diate uno strumento all'altezza per poter andare avanti negli anni, sperando che arrivino notizie enorme e leggi certe per poter andare avanti. Grazie veramente, auguri e buon lavoro a tutti.